vediamo se funziona penso di sì, controllo, sì ci siamo, ci siamo, dovremmo esserci in diretta, funziona quindi non trovo più il telefono, ciao a tutti, diteci se ci sentite, se ci vedete va da arrivare tra poco, ciao a tutti, io Fabio ti sento forte e chiaro, vedo tutto bene, lo aspettiamo un attimo allora vediamo, fateci sapere nei commenti se ci sentite, se ci vedete, oggi parliamo della Small Business Week quindi una diretta dedicata ai piccoli business come sfruttare principalmente l'online per i piccoli business quindi per libri professionisti e aziende sostanzialmente perché poi abbiamo visto che i piccoli business sono il 99% delle aziende italiane forse anche di più, dopo vediamo cos'è un piccolo business quindi capirete che ci siamo dentro tutti in verità lanciamo la Small Business Week, dai Fabio sì, 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 intanto bevo il mio caffè anacquato spagnolo com'è lì a Valencia il caffè, vediamo, sono vari livelli c'è una cosa che mi manca dell'Italia è il caffè, una cosa, solo quella infatti negli aeroporti ti mettono subito il baretto con il caffè appena scendi di fronte all'uscita, una cosa che prendo sempre quando torno tra poco andrò a trovare Fabio, intanto annuncio questa cosa a Valencia andrò a trovare Fabio a Valencia quindi saremo di nuovo insieme faccio un po' di condivisioni tanto io ho la mia tazza invece personalizzata, vedi Fabio? me la devi portare la tazza di fatti valere e anche il libro devono arrivare 200 libri in Italia da Luca entro domani quindi occhio perché oggi abbiamo preparato il magazzino qua, sta arrivando il container e praticamente metà andranno via parenti però poi li spediamo dai, poi li spediamo chi ha acquistato il corso e ha fatto valere nelle ultime settimane riceverà nelle prossime settimane il libro e la tazza con la formula con la formulina, ok dov'è? eccola qua va bene, no questa la tengo come promemoria per quando devo farle con comunque detto questo allora oggi parliamo un po' di questa Small Business Week che cos'è, come è nata e che cosa sta facendo Google per aiutare i piccoli business quindi vedremo tutti gli strumenti che potete utilizzare e come utilizzarli per crescere, far crescere il vostro business specialmente grazie all'online ma comunque in generale con il digital quindi se ci siete possiamo condividere qualche informazione non è così, per iniziare fuori dal funnel vediamo da dove è nata si è stato molto nostro nel gruppo riservato fuori dal funnel condividi tutto condivideremo qualche storiella allora io sono comunque a casa mia a Vicenza quindi sentirete bambine piangere sentirete mia moglie gridare tutto normale anche questo è il piccolo business che lavora da remoto perché sono nel mio ufficio a casa mia su di sopra quindi qui giù c'è l'inferno quindi non vi preoccupate e tra qualche giorno mi dà un po' di vedrete a tutti e due comunque tutto ok tutto ok bene Andrea possiamo partire se sente si vede bene sto controllando allora io ho fatto un po' di ricerche Fabio ho fatto un po' di ricerche per capire che cos'è questa small business intanto intanto diciamo una cosa che stiamo facendo questa live e vorremmo mantenere la frequenza di una settimana non è semplice non è semplice ma ci compromettiamo così subito però dobbiamo trovare anche un nome per questo format per cui se avete idee suggerimenti tipo non so vorremmo tenere il giovedì alle 13 vediamo se possiamo mantenere questa data ma tipo il giovedì con i faccini qualcosa del genere dateci le vostre idee adesso verrà fuori verrà fuori dobbiamo trovare il nome quindi dateci una mano trovare il nome per questo format per queste dirette settimanali le due facce del giovedì no sì sì è una cosa che tentiamo di mantenere vediamo se va bene il giovedì alle 13 cerchiamo di condividere dei contenuti interessanti gratuitamente e esperienze che stiamo facendo che abbiamo fatto quindi che possono essere utili da subito a tutti oggi siamo anche in All Blacks vedete tutto nero quindi vediamo vediamo come va e poi troveremo il format ideale vai spiegaci la Small Business Week la Small Business Week è una settimana di festeggiamenti e premiazioni sui business che è nata in America è una 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 premiazione nazionale a livello americano di fatto è nata nel 1963 pensa Fabio quindi ha una storia e arriverà a temo in Italia tipo il Black Friday che poi diventa una cosa ma magari magari non c'entra nulla e tu te ne parlano magari c'è importanza al business in Italia esatto e il fatto è che in America hanno questa questa cosa no c'è il famoso spirito imprenditoriale americano è un po' il fondamento della loro cultura che sta andando un po' a mio avviso perdendosi però loro tengono molto questa cosa tengono anzi è proprio una cosa molto seria perché per loro i piccoli business sono il fondamento con cui sta in piedi la società le persone devono essere autonome crearsi un reddito avere un'attività spingono molto spingevano molto su questa cosa poi chiaramente i basi governi si spostano su un lato o nell'altro però in questa settimana vengono riconosciuti i migliori imprenditori quindi a livello nazionale USA proprio questa settimana e Google ci ha preso dentro diciamo per parlare un po' di quelli che sono i suoi strumenti ma vediamo prima magari come nasce questa cosa intanto che cosa si dice in America c'è una concezione diversa di piccola media impresa rispetto che Italia ovviamente è un paese da 300 milioni di abitanti per cui non so mi avevi detto quanto quando è una integrata piccola diciamo che varie in base al settore però si parla anche di 35 milioni di dollari di fatturato annuo e 1500 impiegati quindi di fatto capite bene che in Italia un'azienda così è una tra le più grandi che è i piccoli business per modo di dire come le nostre PMI anche le nostre PMI comunque hanno dei parametri molto alti credo siano sui 50 milioni di fatturato però meno impiegati deve essere qualche centinaio quindi insomma stiamo parlando di gran parte dei business che sono in mano un po' a degli imprenditori diversamente da grandi catene grandi business che magari hanno un amministratore delegato che cambia nel tempo eccetera quindi è una cosa che prendono molto seriamente Fabio questi sono andato ricercando e vedo che comunque le premiazioni le fa il presidente degli Stati Uniti o il vice quindi non è una robetta tra pochi che si mettono lì in un hotel e fanno le loro festicciole no no è proprio una cosa che prendono molto seriamente e quindi questo è proprio il culmine quindi di quella che è la loro cultura imprenditoriale un'altra cosa interessante che ho visto sono andato a cercarmi quali sono i 20 migliori business si guarda ti condivido subito possono anche seguire ok adesso dovresti darmi il permesso un secondo vediamo praticamente l'unica secondo questi canoni in Italia solo la telecom non sarebbe una piccola media impresa esatto esatto e io non riesco non riesco a ricaricare dall'estero il mio telefono team con la team non riesci ah sì questa storia era divertente no veramente noi abbiamo a volte diciamo ci preoccupiamo cioè abbiamo dei problemi perché magari il sito ha piccole cose che non vanno con i nostri clienti ma poi scopriamo che grandi aziende giusto hanno il loro principale sistema di di vendita che non funziona sì cioè le aziende con fanno girare milioni e che hanno milioni di clienti per cui poi non c'è mai limite al peggio sì in pratica come era Fabio tu dalla Spagna non riuscivi a fare una ricarica te l'ho fatta io da qua chi di voi ha team me lo può confermare mi può mi può aiutare a capire se sono io il problema però non penso perché ho chiamato anche gli operatori sostanzialmente l'app non funzionava la settimana scorsa per circa dieci giorni il sito non funzionava cioè il pagamento della ricarica non andava a buon fine ho chiamato l'assistenza della team e mi hanno detto sì lo sappiamo è un disservizio che abbiamo da qualche settimana e ti regaliamo 15 euro di ricarica quindi mi hanno regalato 15 euro di ricarica perché non riuscivo a ricaricare però insomma sono andato avanti diversi giorni con app non funzionante e sito non funzionante quindi non si poteva fare non si potevano fare ricariche sì mi sono scritto giù l'appunto per ricordarmi di dire questa storia perché molto spesso piccoli imprenditori fanno delle tragedie perché non va qualcosa giustamente perché poi riguarda i loro profitti ma guarda poi quando più grande l'azienda più succedono queste cose strane in cui le cose importanti non vengono fatte non viene data importanza quindi era una cosa che volevo condividere assolutamente questa comunque sia questo è il vicepresidente degli Stati Uniti che sta premiando appunto alla SBA Small Business Association il miglior business dell'anno e loro ringraziano per le opportunità che gli imprenditori creano una riconoscenza da parte dello Stato che è difficile trovare in altri paesi no? Ricordo che mi raccontavi anche quella storia di del nostro cliente che è andato ad aprire in Florida un cliente collaboratore che che investe in immobili in America e mi diceva che quando è andato ad aprire la partita IVA tipo c'è in grande quando entri nell'ufficio c'è una scritta in grande che ti dice thanks for your business grazie per il tuo business ricordo che io quando sono andato ad aprire la partita IVA sono stato mezza giornata in agenzia delle entrate con con il mio scontrino in mano ad aspettare il mio turno con persone che insomma non mi sembravano così tanto ringraziarmi per essere lì quindi c'è un po' una cultura diversa ed è appunto anche questo lo dimostra questo aver dedicato questa settimana Small Business Week alle imprese e ringraziare gli imprenditori per quello che fanno insomma è qualcosa che 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 mancherebbe qui che mancherebbe che qui mancherebbe anche qua infatti sarebbe bene farlo perché si qua sembra che si mettono sempre ostacoli davanti al fare impresa no? e più cresci più ostacoli trovi sembra che chi faccia impresa rubi sostanzialmente anche da parte dei dipendenti sembra sembra sempre che l'imprenditore sia quello che guadagna milioni sulle spalle dei dipendenti quando appunto in realtà sta creando opportunità per cui bisognerebbe anche qui cambiare un po' la cultura la cultura di base esatto poi mi sono scritto giù quelli che sono i 20 business più profittevoli ok aspetta un attimo che mi share e sono questi questo questo elenco sono proprio tra i business più vincenti quelli più profittevoli che sono stati premiati negli ultimi anni e anche questa è una cosa che mi sorprende perché ha molto a che fare con l'online molto a che fare con i servizi e con il settore terziario quindi attenzione che i business dei terziari sono quelli più profittevoli a quanto pare il primo posto per esempio tax preparation io non sono un esperto in tax preparation ma immagino siano quindi tutti quelli che come i nostri commercialisti che preparano discorso tasse dichiarazioni di redditi eccetera catering service e i web designer attenzione i web designer qui si posizionano al terzo posto i consulenti business e qui un po' rientriamo ok i corrieri ok vabbè c'è stata un'esplosione ultimamente con i servizi di corrieri qui non ho ben chiaro chi se qualcuno se li intende il parrucchiere mobile non so bene forse è un parrucchiere a domicilio a domicilio potrebbe essere per i VIP potrebbe essere una cosa che non esiste però guarda che in Italia a me pesa tantissimo andare dal parrucchiere se venisse il parrucchiere da me sarebbe una figata sì cleaning service servizi di pulizia e online tutoring quindi anche qui un altro servizio online quindi l'online ha a che fare bene o male con tre di queste prime otto voci tre quattro di questi lavori questi business più profittevoli in America cos'è nell'ultimo anno o in generale in generale nelle ultime premiazioni le ultime premiazioni erano business che si potevano fare completamente online gli altri gli altri quattro sono business che in realtà possono sfruttare l'online per acquisire clienti e per farsi conoscere quindi sostanzialmente l'online è qualcosa che può aiutare tutti questi business che più che meno a aumentare la profittabilità abbiamo fatto anche un webinar che parlava di vari business che si possono avviare online però questa è un'altra storia comunque sia magari lo trovate cercando nel nostro canale youtube trovate delle parti comunque mi sono messo anche qui una nota che mai come quest'anno chiaramente è importante questa festa perché c'è veramente quest'anno i piccoli business hanno attraversato l'inferno e chi è sopravvissuto penso sia non dico un'elite ma già ha subito un filtraggio sono sopravvissuti i migliori spiace dirlo ma chi aveva più profitto più cash flow che aveva più cassa che aveva anche modo di lavorare online durante il lockdown e chi non ci aveva pensato prima purtroppo ha sofferto di più diciamo più che migliori hanno probabilmente hanno sofferto o meno o sono sopravvissuti i più flessibili i più organizzati organizzati perché appunto magari avevano già previsto che potesse arrivare una crisi e quindi o anche no però in generale hanno avuto una gestione finanziaria precisa accumulando magari dei cuscinetti che potessero aiutarli a far fronte a queste a queste evenienze flessibili perché perché magari già prima di questa situazione si erano posti hanno voluto allargare un po' anche il loro modello di business allargandolo online ad esempio i ristoranti che già facevano delivery oppure altri business come vedremo dopo un nostro cliente una fioreria che già faceva delivery oppure comunque flessibilità significa anche che non hanno perso tempo quando si è aperta questa situazione non hanno aspettato che finisse il lockdown ma si sono messi subito al lavoro per modificare il loro modello di business e sfruttare quindi poi queste nuove tecnologie anche per far fronte a questa situazione imprevista improvvisa per cui diciamo che si sapete come la pensiamo ci siamo esposti con diversi post e a volte siamo stati anche criticati su questa cosa ma noi siamo abbastanza categorici nel senso c'è chi dice ma certi tipi di business hanno subito più di altri e la cosa è oggettiva e su questo siamo d'accordo altra cosa è dire di essere d'accordo che non bisogna guardare mai a un domani cioè voi in quanto imprenditori dovete prevedere anche le situazioni più disparate almeno per due mesi non dico per cinque anni se fosse una guerra ok ma stiamo parlando magari di qualche mese noi abbiamo sempre sostenuto che un business deve tener conto di questo deve metterlo tra l'elenco dei rischi e adesso lo sappiamo sono convinto che molti di più lo faranno sì 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 le critiche sono arrivate anche dopo dopo che abbiamo detto dopo due settimane di lockdown non è magari abbiamo visto sì erano due settimane come abbiamo detto che non pagavano fatture di gennaio magari quando eravamo a marzo dopo due settimane quindi erano già senza liquidità dopo due settimane senza incassi per pagare le fatture di gennaio cioè c'è qualcosa che non va lo possiamo ammettere che c'è qualcosa che non va o no non dico dopo un mese due mesi tre mesi dopo due settimane quindi che vogliato o no sosteniamo che c'è qualcosa che non va poi siamo tutti liberi di gestire le nostre finanze come vogliamo diciamo che sarebbe bello avere un annetto di autonomia non sarebbe male avere un annetto di autonomia no? io quando vado sotto i due anni di autonomia quindi sotto i 24 mesi sto mi agito tornino a soli perché appena c'è qualcosa io subito mi agito dico ok bisogna trovare qualcosa per raddrizzare bisogna fare qualcosa per raddrizzare le situazioni bisogna fare qualcosa per trovare nuove entrate eccetera e quando Fabio lo fa è un casino cioè vi chiama tutti i giorni tutte le ore cioè è una roba vabbè super produttiva va bene quindi andiamo avanti andiamo avanti perché adesso vi dobbiamo mostrare veramente delle cose utili che potete mettere in pratica adesso fino ad adesso abbiamo parlato in generale dei piccoli business ma vogliamo mostrarvi delle cose che potete iniziare a fare già subito da soli in sette punti che sono quelli che suggerisce Google sono uno per ogni giornata quindi Google suggerisce degli strumenti sto leggendo qui su un articolo per le PMI durante i processi di web marketing tramite l'evento International Small Business Week Google scrive la crisi causata dal Covid-19 ha reso più chiara l'importanza della digital transformation ok aspetta ti condivido sarebbe male ok mi sento la crisi causata dal Covid ha reso più chiara l'importanza della digital transformation a livello aziendale migliora la produttività e funge da chiave di sopravvivenza durante i periodi più bui il nostro scopo è quello di aiutare le piccole imprese a restare aperte mantenendo il contatto con i clienti nonostante la crisi ricordo che beh dopo ve lo racconto grazie all'International Small Business Week condivideremo corsi di formazione strumenti e risorse gratuite per costruire con efficacia una presenza digitale più forte chiaramente poi Google fa i vostri interessi facendo i suoi interessi perché gli strumenti sono i suoi però sicuramente sono cose che aiutano e già gratuitamente potete avere molto da questi strumenti ricordo che così un aneddoto sono andato appena dopo il lockdown in un centro commerciale c'era un ristorante chiuso che diceva abbiamo chiuso che lasciamo stare le cause perché il governo non ci ha aiutato ringraziamo tutti i nostri clienti comunque ci teniamo in contatto su Facebook capite che è l'ultimo aggancio l'ultimo anello che tiene ancora unito il business con i clienti la loro pagina Facebook dove magari comunicano che aprono fuori dal centro commerciale dove costa meno non lo so però mi ha colpito questa cosa come Facebook è entrato nell'economia reale realissima anzi già da un bel po' quindi lunedì andiamo a vedere quindi ogni giorno della settimana da dei suggerimenti noi li riassumiamo qui per voi in mezz'ora così se non dovete aspettare una settimana per conoscerli tutti adatta la tua azienda alle notevoli tendenze dei consumatori quindi loro lunedì hanno suggerito di focalizzarsi sul discorso analytics quindi analisi dei dati analisi dei dati e dei trend e di quello che si dice nei social vedete queste iconcine per avere nuove idee o per prendere delle decisioni Fabio quindi questo è quello che sentite le bambine adesso sentirete nonostante ho il microfono puntato verso di me quindi non lo so se si sentono 4 mesi che non le vedo quando arriverete qui tra dieci giorni non mi riconosceranno perché porto tutta la famiglia si va a Valencia moglie e due bambine faremo una live con quelli punto numero uno importante è relativo all'analytics ok quindi in generale diamo dei rispunti concretici concreti per i business e per chi quindi libero professionista o è imprenditore e deve gestire un business online non si fa nulla senza tracciare i dati quindi la tecnologia che abbiamo a disposizione ci permette di tracciare tutto quello che vogliamo possiamo avere un preciso dato sul ritorno dell'investimento delle nostre campagne ok quindi sfruttiamolo ci sono ancora tantissimi tante aziende che magari ci chiedono consulenza che o hanno fatto campagne però senza tracciare i risultati di conseguenza non hanno idea del ritorno sull'investimento oppure sono inconsapevoli dei dati che hanno cioè l'altro giorno ho parlato con un cliente che ci ha contattati e non sta facendo campagne ha il sito ma non lo sta sfruttando proprio non sta inviando traffico al sito e in realtà ha l'oro in casa ma non lo sa perché guardando l'account Google Analytics ho visto che ci sono parecchie visite 4-5 mila visite al sito organiche che non vengono assolutamente sfruttate e che sono generate in automatico senza nessuno sforzo di marketing da parte dell'imprenditore dell'azienda di conseguenza con un piccolo sforzo in più si potrebbe avere tantissimi risultati in più altro esempio stiamo facendo delle campagne su un brand molto molto di nicchia ma molto potente nella sua nicchia sull'abbigliamento e abbiamo stiamo facendo delle campagne abbiamo appena iniziato a collaborare e circa una settimana che stiamo aspettando che venga installato un tracking ok il pixel di Facebook questa cosa è un'attività che veramente veramente costa tre minuti netti quattro minuti se hai Windows e devi accendere il computer e quindi devi aspettare un po' di più perché perché si ingrana il computer però con un Mac tre minuti tre minuti di lavoro di uno sviluppatore per installare il pixel che possono portare a veramente migliaia di euro in più migliaia di euro in più in questo caso ma come come concretamente nel senso qui spieghiamo tu hai fatto delle campagne io ho seguito la cosa da fuori la campagna dura qui due settimane è per il lancio di una maglietta non è una campagna così per no stiamo vendendo una serie di maglie Unicommerce Unicommerce quindi potenzialmente tutto tracciabile potremmo avere i dati di quanto abbiamo investito e quanto abbiamo incassato esatto abbiamo che installassero il pixel di facebook che è un tracciamento giusto un pezzo di codice che installato nel sito ti dà modo di sapere esattamente come si sono comportati gli utenti che cosa hanno acquistato e quanto hanno acquistato una cosa che non puoi fare tu giusto esatto quindi serve l'accesso al sito installare questo pixel significerebbe avere il dato preciso di quanto il nostro investimento ci ha fruttato in termini di ritorno economico in termini di fatturato ok perché il pixel ci dice esattamente quindi questo codice di tracciamento ci dice esattamente che gli utenti che sono arrivati da quella campagna sulla quale avevano investito 2000 euro hanno acquistato 10.000 euro di t-shirt di magliette perfetto perfetto sappiamo che quei 2000 euro ci hanno fruttato 10.000 euro quindi la prossima volta sappiamo che potenzialmente questo potrebbe essere il nostro ritorno sull'investimento inoltre l'atto tecnico è importantissimo installare il pixel perché facebook va può andare ad ottimizzare quando noi gli diamo questi dati di quale tipo di utente ha acquistato lui può andare ad ottimizzare le nostre campagne in automatico per spingere maggiormente il budget verso gli utenti simili a quelli che hanno già acquistato cioè se creo una campagna e acquistano principalmente ragazzi dai 25 ai 30 anni con interessi verso la musica trap facebook capisce questo grazie al pixel se non abbiamo il pixel non lo può capire perché non c'è non c'è un un sistema tecnico tecnologico che riferisce questi dati a facebook ok il pixel serve proprio per far comunicare il nostro sito quello che succede nel nostro sito con il sistema di facebook con il database di facebook con tutti i dati che ha noi se installiamo questo codice trasferiamo questi dati a facebook che capisce che questo i ragazzi dai 25 ai 30 anni con interessi verso la musica trap sono più propensi ad acquistare di conseguenza andrà a spingere il nostro budget in automatico verso questo tipo di pubblico verso altri ragazzi simili a lui quindi anche questa campagna che durerà circa due settimane potrebbe avere veramente un ritorno sull'investimento molto più alto con con un piccolissimo sforzo di tre minuti di installare questo pixel e questo è un po' uno dei punti capi della nostra filosofia quando lavoriamo in performance ppc con i nostri clienti cioè dedicarsi alle piccole attività che possono portare grandi risultati spesso l'imprenditore il libro professionista che si affida a dei partner ad agenzie partner quello che è chiunque in qualsiasi tipo di campo non solo nel campo del web marketing in qualsiasi tipo di campo spesso il fornitore magari si dedica a grandi attività che portano poi piccole a piccole a piccoli risultati quindi magari a creare un e-commerce da 30.000 euro quando poi una volta che hai creato questo e-commerce hai investito 30.000 euro e investito tutto il tuo budget che avevi per il progetto non hai più budget per mandare gente a questo e-commerce per investire sul tuo brand per investire a far conoscere i tuoi prodotti contenuti nell'e-commerce un esempio oppure altre attività appunto che richiedono tanto tempo e tanto investimento ma che portano meno risultati concreti ci sono invece delle attività come questa l'installazione di un codice che richiede tre minuti e può portare a tantissimi a grandi risultati economici sì aspetta che attivano e anche il motivo per cui diciamo queste cose qui in diretta gratuitamente perché l'imprenditore deve saperle dovete chiedere queste cose devono essere installate perché sono fondamentali importanti non è importante fare bellissima la grafica del sito non è importante mettere 10 foto al posto di 8 è importante non è così fondamentale diciamo è importante tutto importante ma non è così fondamentale per il ritorno sul investimento finale diciamo esatto eh sì sì questa è una cosa che succede e poi l'altra cosa da installare è Analytics e non solo installare Analytics che è un sistema di Google per tracciare tutti i comportamenti degli utenti nel sito ma anche andare a impostare correttamente Analytics perché c'è una serie di impostazioni che vanno fatte non entro nello specifico ma è successo settimana scorsa che un cliente è arrivato da noi aveva già investito quindi questo è un nuovo cliente che adesso è partito cioè è partito inizia con noi e aveva investito circa 5.000 euro mi sembra in campagna con una con un'altra agenzia prima di noi e quindi per fortuna aveva investito poco perché 5.000 euro di investimento è poco vi posso garantire per adesso non è male però è ancora poco e questi 5.000 euro sono stati non dico buttati via ma non si sa bene dove siano finiti perché ha ottenuto 160.000 visite al sito cosa che può essere interessante non si sa la qualità di questo traffico ma cosa ancora più problematica è che non hanno installati correttamente i tracciamenti con Analytics quindi adesso facciamo fatica a andare a non hanno impostati i pubblici quindi non possiamo andare a rimarchetizzare tutte queste persone cioè non possiamo andare a raggiungerle nuovamente con le nostre campagne e il cliente ci è rimasto male perché pensava di poterlo fare mentre per un tecnicismo che porta via pochi minuti ma non è stato implementato questo non è possibile e come facciamo a renderci conto di che cosa è importante noi e che cosa è meno importante perché ci focalizziamo sugli obiettivi del business del cliente gli obiettivi lì erano ottenere contatti gli obiettivi nel caso di Fabio erano vendere dall'e-commerce per raggiungere quell'obiettivo le cose che vanno fatte sono ben precise vanno messe in fila e fatte non c'è altra soluzione se invece pensiamo soltanto al nostro obiettivo di fare abbastanza ore per arrivare a fine mese allora andiamo a fare cose inutili quindi è importante anche che sappiate valutare le cose importanti da quelle no quindi questi sono i due casi anche andare a bere il caffè in ufficio dall'agenzia non è utile purtroppo dispiace dirlo ma bere il caffè in giro non è una cosa che si fa bere il caffè così anacquati il caffè solubile in casa noi beviamo il caffè virtuale ma questa è un'altra storia ok no un altro strumento che volevo Fabio ha parlato del pixel facebook c'è google analytics che va installato e configurato correttamente per tracciare e catalogare le persone che hanno visitato il vostro sito e poi c'è google trends volevo farvi vedere una cosa perché io e Fabio durante appena iniziato il coronavirus il lockdown no forse prima del lockdown anzi fine febbraio inizio marzo quando iniziava la disperazione di quelli che adesso stanno pensando di andare di quelli che adesso tra l'altro gli stessi che adesso chiudono due settimane ad agosto per ferie non si sa non si capisce possiamo stare i veri imprenditori hanno fatto ok hanno fatto così perché il vero imprenditore inizia a lavorare nei momenti di crisi inizia a lavorare perché finalmente c'è un cambiamento quando ci sono i cambiamenti ci sono le opportunità e vi volevo far vedere una cosetta che abbiamo scoperto proprio in quei giorni adesso non ho proprio di screen di tutti quelli che ho tirato fuori però ne ho già ne ho tirati fuori tre ok io e Fabio ci siamo chiamati abbiamo anche già parlato di questa cosa quando abbiamo fatto quelle live durante il coronavirus avevamo già avvisato per esempio ci sono dei trend che aumentano che sono aumentati in questo periodo di crisi ok remote working vedete come a marzo queste sono questo è google trends ok e questi sono dei dati che ci dà google sulle ricerche riguardo a remote working quindi argomenti su questa parola chiave le persone che cercano remote working su google guardate come è aumentata la ricerca in febbraio marzo ma è ancora più impressionante l'aumento della ricerca su smart working chiaramente direte voi è aumentato ma qui vedete che c'è un aumento e è pazzesco l'aumento questi sono termini percentuali quindi se qui ho 100 qui avrò praticamente 5 ok quindi c'è un aumento vertiginoso delle ricerche degli interessi degli utenti su questi argomenti lavoro da casa anche qui febbraio marzo questo cosa ci ha permesso di analizzare ok non vi dico poi siamo andati a vedere proprio i termini di ricerca su google abbiamo visto dei dati ancora più interessanti però da questo abbiamo capito che c'era un nuovo bisogno la crisi ha generato un nuovo bisogno degli utenti che probabilmente non era soddisfatto quindi abbiamo capito che potevamo aiutare noi questi utenti potevamo soddisfare questo bisogno perché avevamo le competenze da lì sono nati poi i corsi remote project management il corso fatti valere di fabio capite che durante il lockdown avevamo da fare no? ci avete sentito poco perché di fatto stavamo producendo nuovi materiali nonostante comunque questo nonostante per natura del nostro lavoro già eravamo abbiamo ricevuto più richieste del solito e per alcuni clienti eravamo ancora più più sotto perché hanno aumentato le loro vendite nonostante questo abbiamo voluto ancora di più abbiamo cercato ancora nuove opportunità e le abbiamo trovate abbiamo sviluppato nuovi prodotti quindi se volevo dire che qui è un caso cioè un esempio ma se mettiamo sono convinto se mettiamo consegna fiori domicilio ci sarà lo stesso aumento se mettiamo consegna delivery food domicilio c'è lo stesso aumento se mettiamo ci saranno sicuramente diverse opportunità centinaia migliaia di opportunità così quindi qualsiasi business può andare a fare una ricerca su google trends cercate google trends gratuito e vi dà delle tendenze delle linee di tendenza delle ricerche questo è l'ultimo anno può essere anche che andate a cercare sugli ultimi 5 anni in diversi paesi del mondo però questi sono dati che vi possono dare veramente idee intelligenti da implementare quindi non disperate molti investivano con noi tanto in campagne prima della crisi ok quando costavano tanto le campagne durante la crisi hanno chiuso tutto ok fermi con le campagne noi abbiamo iniziato a investire in campagne durante la crisi perché costava meno l'abbiamo detto anche in quella live e poi finita la crisi hanno visto un po' di positività riapparte tutto hanno ricominciato a investire capite che come la borsa hanno comprato nei momenti dove costava di più nel momento in cui costava meno non hanno comprato traffico non hanno comprato pubblicità è un peccato è un peccato perché hanno perso un'occasione grossa noi non abbiamo mai noi come performance pc quindi proprio per la nostra attività non abbiamo mai investito in campagne per promuovere sì pochissimo abbiamo investito poco negli anni in confronto a quello che abbiamo investito da marzo a maggio da marzo a maggio abbiamo investito penso dieci volte tutto quello che abbiamo investito negli ultimi quattro anni perché ci siamo accorti che i costi erano veramente nettamente più bassi c'era molta meno concorrenza ed era il momento ideale per investire lo abbiamo consigliato ai nostri clienti chi ci ha seguito ne ha beneficiato altri invece non hanno voluto seguirci e di conseguenza hanno perso grosse opportunità qui mi collego anche un altro discorso ma che affronteremo in un'altra delle dirette qui ho indicato già 12 argomenti che vogliamo trattare nelle prossime dirette ed è qui uno di questi il valore delle consulenze il valore delle consulenze ad esempio nel nostro campo il valore delle nostre consulenze cioè cosa significa valore quanto può portare all'imprenditore in termini di ritorno per la propria attività nel breve ma anche nel lungo termine non è solamente saper fare la campagna Facebook con l'ultimo tecnicismo con il lookalike piuttosto che con gli interessi piuttosto che con la CBO CPC o CTR ok il valore della consulenza è anche proprio il consiglio dato da da chi sta ogni giorno in questo settore il valore del consiglio che abbiamo dato ad alcuni nostri clienti a marzo di non stoppare le campagne ma di continuare aveva un valore dieci volte cento volte più grande di sapere utilizzare l'ultimo l'ultima tipologia di campagna Google ok quella può fare una differenza di 0,1% questo consiglio faceva la differenza di 100% quindi questo è anche il valore il valore nascosto delle consulenze abbiamo le prove abbiamo le prove perché la live è registrata lo avevamo detto infatti per quello facciamo queste live perché c'è scritto cioè è registrato l'abbiamo detto chi ha orecchie per sentire senta e no in verità facciamo le live anche per dimostrare un po' che la sappiamo in modo che possiate fidarvi un po' di più perché veramente spesso vedo fare degli errori perché non si fidano abbastanza e quindi non seguono il consiglio ma non non c'è niente da aver paura è chiaro che abbiamo più esperienza di voi cioè siamo sempre stati dentro facciamo campagna tutti i giorni lavoriamo su almeno 20 progetti diversi ogni giorno in diverse nicchie online cioè è chiaro che abbiamo un po' più dati a disposizione la cosa che dispiace di più è proprio quella magari di non vedere seguire i nostri consigli e che questo vada a danneggiare poi il business del nostro cliente o del potenziale cliente che poteva essere cliente ma non lo è diventato e quindi di conseguenza stiamo stiamo investendo anche il nostro tempo nel fare queste dirette proprio per dimostrare che vi potete fidare di noi dei nostri consigli probabilmente insomma cerchiamo di di trasmettere un po' più di fiducia e questo può può aiutare tutto il sistema tutto diciamo l'attività nel nostro piccolo l'attività economica di chi si vuole affidare a noi allora vediamo passiamo al secondo punto martedì parliamo di raggiungere i nostri parliamo Google parla Google parla ma noi lo riassumiamo qui mezz'ora via raggiungere i nostri clienti online for free gratuitamente come si fa Fabio qui parliamo allora adesso ti racconto questa allora la prima allora in assoluto chiunque sia libero professionista che aziende piccole medie aziende devono assolutamente fare una scheda Google My Business e una scheda Google My Business che cos'è? è una scheda che Google ti permette di creare gratuitamente in cui vengono sintetizzati tutti tutti i dati del del proprio business quindi l'indirizzo le foto le recensioni e così via eventuali prodotti quindi è la prima il proprio biglietto da visita che il professionista o l'azienda soprattutto il locale ha in Google quindi il primo biglietto da visita che l'utente vede in Google ieri sono andato qui a Valenza alla ricerca di un di un negozio di noleggio bici perché Luca arriverà con la moglie dei due bambini tra dieci giorni e quindi volevo capire un po' i prezzi cosa ho fatto ho cercato in Google ho trovato il più vicino a casa mia e sono andato a chiedere ho controllato aveva cinque stelle e quindi mi sono fidato se avesse avuto tre stelle due stelle sicuramente mi sarei recato in quello più lontano magari in un altro più lontano ma con delle recensioni migliori e abbiamo qui le cinque stelle attenzione questo è un esempio esatto questo è un esempio vedete che anche Fabio nonostante sia un servizio alla fine lui ha un servizio è un consulente web marketing ha una scheda Google My Business qui chiaramente tra i risultati di ricerca Fabio Facini viene fuori subito il sito ma qui a fianco guardate come è ben presentata la sua attività vedete qui puoi praticamente scegliere il tuo biglietto da visita quello che l'utente vedrà quando scriverà il tuo nome e il nome della tua azienda qui ci sono diciotto recensioni tutte positive cinque stelle quindi chiaramente false c'è la mamma Andrea ok ovviamente false tutti pagati questi pagati no ma la cosa curiosa ieri sono stato a questo a questo negozio e vabbè non è corretto farlo quello che fanno loro però almeno dimostrano cioè non è totalmente diciamo eticamente corretto però dimostrano di fare attenzione a questo e questo gli ha portato me cioè gli ha portato un cliente in più praticamente ho chiesto informazioni per due bici da noleggiare e mi hanno fatto hanno detto guarda costa circa 80 euro per 10 giorni per una bici 80 euro per l'altra però ti posso fare questo ha tirato fuori dei coupon fisici che stanno distribuendo in città e tu prenoti la prima mi lasci cinque stelle in google my business e io ti do questo coupon del 50% di sconto sulla seconda bici quindi è un po' un mezzo ricatto ok però dimostrano di fare di fare molta attenzione a questo che poi in realtà appunto è un coupon che danno a chi è già cliente chi è già andato una volta per tornare la seconda volta quindi comunque se uno si è trovato male rinuncia al 50% di sconto per la seconda volta e non gli fa la recensione è appunto un incentivo in più semplicemente un incentivo in più per fare questo per fargli fare la recensione quindi dimostrano di fare attenzione a questo e sanno che il turista che arriva in città e non conosce il posto cerca su google e se tu sei posizionato prima con centinaia di recensioni a 5 stelle è solo un bene ricordo intanto che Fabio ha il libro che è uscito finalmente nell'edicole è stato pubblicato è stato stampato anche lì non commentiamo il momento di crisi è uscito a marzo il libro quindi è stato rimandato a giugno ma lo trovate in diverse librerie in tutta Italia sì e comunque ordinabili anche online sia se non lo trovate in libreria lo potete ordinare cioè potete dire voglio il libro di Fabio che ci insegnavo la libertà e arriva metto il link qui in descrizione eventualmente se volete acquistarlo da Amazon pubblicato da praticamente a profitto zero quindi è un consiglio spassionato che diamo così per conoscere meglio Fabio perché è la sua storia ma essendo non è in auto pubblicazione quindi il margine non c'è però vabbè è stato pubblicato almeno è in tutte le edicole quindi non c'è margine ma sì se volete conoscere la mia storia e volete capire anche per un libro professionista chi vuole mettersi in proprio come fare sfruttando l'online soprattutto ma non solo oppure chi è il libro professionista e vuole capire come migliorare il proprio posizionamento trovare nuovi clienti è un altro spunto insomma sono 14 euro e 50 direi che più che abbordabile di cui io prenderò forse mi guadagno mezzo caffè aspetta vediamo se funziona richiedi preventivo ok funziona ti ho messo alla prova bene quindi schietto google my business un'altra cosa delle recensioni Fabio vi ha detto che questa questo noleggio bici chiedeva la recensione ma in verità è anche google che chiede la recensione per voi come mi sono scritto nei miei belli appunti qui ah giusto ok la cosa interessante ho scritto nei commenti anche il link al corso local business revolution eventualmente è importante come creare come gestire tutto questo mondo online per chi ha un business locale in negozio si ormai abbiamo un corso corsetto qualcosa per tutto quindi chiaramente abbiamo visto la necessità assolutamente per i piccoli imprenditori che vengono da noi soprattutto piccole attività locali di avere della formazione sul crearsi la prima presenza online quindi scheda google my business piccole campagne google qualcosa in facebook cose semplici semplici che possono far da soli perché se vanno da un consulente da noi non partiamo proprio cioè se non avete queste basi non si parte se andate da qualcun altro rischiate che ve le faccia male è difficile trovare proprio il freelance che ve le fa a buon prezzo fate bene meglio secondo me se partite voi quindi c'è il corso local business revolution che insegna questo è che è un prezzo molto l'abbiamo calato tantissimo proprio per il periodo in cui consigliamo vogliamo spingere i piccoli imprenditori a partire da soli a fare le prime operazioni da soli e spieghiamo tutte queste cose qua di come creare la scheda google my business infatti dicevo che io ho creato una scheda google my business per un mio amico che ha un negozio qui in paese una ferramenta non faccio questo di lavoro infatti chi mi chiede di creare la scheda google my business non lo facciamo lo facciamo solo agli amici però l'ho creata e vedo che continua a ricevere recensioni recensioni tutti i giorni sto qua riceve recensioni in piccola ferramenta di paese e poi ho scoperto il perché perché in effetti google quando ha le posizioni dei telefoni riesce a sapere che un utente ha visitato quel punto perché conosce la mappa conosce dov'è il vostro negozio richiama la scheda google my business e chiede la recensione a chi è stato in negozio quindi se io visito il negozio del mio amico qualche giorno dopo mi arriva una email da google che mi dice hai visitato quel negozio vuoi lasciare una recensione e diventa molto semplice mettere 4-5 stelline e scrivere una piccola recensione per il negozio quindi una volta che avete creato la scheda google my business vi aiuterà anche google a collezionare feedback io ho la mia sede è qui a casa mia per la scheda google my business mia e ho gli amici che quando vengono a trovarmi poi ricevono un email da google che gli chiede appunto di mettermi una recensione per la mia attività anche se sono venuti qui a fare l'aperitivo quindi è molto utile avere google che lavora per voi attenzione perché a volte si può trasformare in un'arma a doppio taglio perché si fa si deve fare i conti con l'analfabetismo digitale ad alcuni clienti è capitato di ricevere recensioni mi ricordo qualche mese fa con una recensione magari da una stella con scritto non so non so cosa sia e capire subito non capivamo questo mette la recensione una stella non so cosa sia e poi abbiamo capito che abbiamo capito non capivano la domanda non capivano magari passavano di fronte al negozio gli arrivava la notifica quindi questo per dire cosa che ci vuole sempre attenzione monitorare tutta la propria presenza online se dovesse capitare una recensione del genere bisogna essere consapevoli e quindi contattare chi te l'ha lasciata chiedendo di rimuoverla ma se non aveva capito che cosa stava facendo prima non capirà nemmeno cosa gli state chiedendo adesso in questo caso quindi potreste eventualmente segnalarla e contattare google e chiedere a google di rimuoverla però chiaramente se non sappiamo nemmeno di avere una scheda my business e non abbiamo il possesso della nostra scheda my business questo che ha lasciato una recensione da una stella e ha scritto non so cosa sia ci rovinerà un po' la reputazione online perché abbasserà il nostro punteggio quindi bisogna essere consapevoli di quello che sia online e curare la propria immagine online la propria reputazione online anche con queste piccole cose intanto metto il link anche a quel corso se servisce intanto ringraziamo luca luca d'amore che ci scrive complimenti ragazzi siete veramente bravi professionali e competenti pensavo anche belli però vabbè vabbè ma da un uomo va bene così allora qua come sempre andiamo lunghi fabio andiamo lunghi io ti lancio l'altro punto mercoledì punto numero 3 quindi abbiamo visto analisi dati beh nessuno ha detto che dobbiamo chiudere in un'ora entrare gratuitamente e farsi conoscere online terzo punto promuoversi spingere online veramente con le campagne qui iniziamo a tirar fuori un po' di soldini ma si può iniziare da soli si può iniziare già a fare qualcosa Fabio lancia parla un po' di quali campagne prima bisogna porre le basi come abbiamo detto è quello che abbiamo parlato finora anche con strumenti gratuiti poi bisogna fare le cose seriamente quindi seriamente significa non avere paura di investire e iniziare ad investire se può investire in vari strumenti dipende da qual è il nostro pubblico target quindi dobbiamo analizzare un po' che piattaforma utilizza il nostro pubblico target e iniziare ad investire potrebbe essere in Google in Facebook in Instagram se parliamo di Google visto che oggi parliamo nello specifico di Google che ha dedicato questa Small Business Week che ha dedicato degli eventi a questa Small Business Week ci sono tre tipologie quattro tipologie di campagne sulle campagne rette di ricerca quindi andiamo a far visualizzare degli annunci agli utenti che stanno cercando o il nome della nostra azienda oppure stanno cercando dei termini relativi al nostro prodotto al nostro servizio quindi hanno un problema palese palesano un problema perché lo stanno cercando in Google e noi possiamo far visualizzare loro un annuncio e quindi farci conoscere in questo modo quindi il pubblico più caldo possibile quindi lo penso ad acquistare poi abbiamo le campagne display che sono invece dei banner pubblicitari quindi sono i banner le immagini pubblicitari che vedete nei vari siti web la rete display di Google è una rete di migliaia dei siti web affiliata a Google e noi possiamo pubblicare quindi degli annunci anche su questi siti qui il pubblico potrebbe essere di due tipi o il pubblico freddo cioè un pubblico che non ci conosce e quindi noi possiamo scegliere di pubblicare i nostri annunci su dei siti in cui pensiamo che questi utenti che pensiamo che questi utenti possono visitare cioè andiamo con un target contestuale quindi è un po' come mettere non so mettere un cartellone pubblicitario relativo alle scommesse le scommesse online vicino a uno stadio di calcio chiaramente vicino al stadio di calcio sarà più probabile che passino appassionati di sport di conseguenza posizionare lì questo cartellone pubblicitario sulle scommesse sportive potrebbe essere un buon contesto questo potrebbe essere un buon contesto in cui inserirle in cui pubblicare questi annunci pubblicitari lo stesso vale appunto online quindi possiamo scegliere di pubblicare i nostri annunci display su siti pertinenti con il nostro pubblico poi ci sono le campagne youtube in cui funziona più o meno il targeting allo stesso modo delle campagne display però appunto pubblichiamo dei video in youtube e sono gli annunci diciamo i più diffusi sono gli annunci che vediamo prima di visualizzare un video che possiamo scegliere dopo 6 secondi di saltare o meno comunque poi ci sono anche altre tipologie di video youtube sostanzialmente appunto si tratta qui di iniziare di investire veramente e andare ad intercettare il nostro pubblico in google retta ricerca nella retta display in youtube oppure nei social come facebook e instagram si chiarisco una cosa voi dovete online intercettare due tipi di pubblici prima quello consapevole che cosa significa che sta cercando esattamente quello che vendete voi ok quindi nel nostro caso vendiamo auto cercate il pubblico che sta cercando un'auto in questo momento che vuole cambiare auto in questo momento il secondo pubblico quello inconsapevole non è che non conosca solo la vostra attività ma magari proprio non ha idea di cambiare auto ma ha come un desiderio interno inespresso in verità in verità bisogno di cambiarla non ci ha mai pensato a un'auto che ha 10-15 anni e quando vede la vostra pubblicità si innesca qualcosa in lui che magari vi fa decidere dopo qualche settimana di cambiare auto quindi questi sono i due tipi di pubblici e prima si intercetta quello consapevole perché è più facile che converta una volta che abbiamo saturato questa ricerca andiamo su questo pubblico inconsapevole come ha detto Fabio mostrando degli annunci grafici mostrandoci in video mostrando annunci in siti dove può essere che questo target si trovi quindi questo è in generale un po' quello che succede Facebook è molto bravo a intercettare un pubblico che non è consapevole di un bisogno ma Google sta facendo molta strada su questa cosa con Google Display sta cercando di ottenere lo stesso risultato che si ottiene con le campagne in Facebook chiaramente anche loro vivono di questo quindi ci tengono andiamo avanti giovedì questo è il tuo questo è il mio ciao Fabio ok grazie di tutto guarda caso guarda cosa ha messo Google nei punti più importanti per la crescita online noi ci occupiamo di far crescere i business online quindi tutto quello che facciamo a questo figlio conduttore dal marketing all'organizzazione quindi work remotely and stay connected with the employees noi dobbiamo cercare più possibile di avere modo di lavorare da remoto oh si vede che studia inglese grande faccio il Toastmaster è un'altra storia che vi racconterò vi racconterò anche questo aneddoto ma ormai sono le due e dobbiamo muoverci quindi cercate di avere un business che sia più possibile che possa girare anche da remoto da qualsiasi luogo qualsiasi orario per una serie di vantaggi che è chiaro io non so se ha senso ormai elencarli ma praticamente come si fa google ci dà dei suggerimenti con la sua suite con i suoi strumenti ok vi consiglio di utilizzare G Suite quindi è una suite è un insieme di software di applicazioni che potete usare direttamente online come Gmail per l'email calendar per organizzare il vostro calendario Docs che serve per realizzare documenti Google Sheet serve per non so se forse in Italia Google Fogli ok qua è tutto in inglese va bene e Slide serve per realizzare le slide Google Fogli serve per realizzare gli Excel ok sembra scontato non lo è perché abbiamo ancora molti clienti che non sanno utilizzare Google Docs per esempio non sanno creare un documento su Google e condividerlo con un link la cosa bella è che il documento è online è nella nuvola in cloud quindi tutti accedono allo stesso documento anche in contemporanea con più persone possono modificarlo in contemporanea e quella è la versione definitiva è l'unica versione esistente quella online questo vale per tutti questi strumenti qui di Google quindi non avete problemi di doppioni non avete problemi di versioni su diversi computer non avete problemi di computer che esplodono e perdete dati ok importanti la sicurezza c'è perché Google comunque ha una doppia criptografia quindi avete doppio accesso non vi preoccupate esageratamente poi è chiaro se dovete andare a condividere il bilancio aziendale di una multinazionale inizierei magari a pensare a Google Suite quello cos'è 360 non ricordo più quello a pagamento e ce l'abbiamo ma paga Fabio quindi non so il nome detto questo quindi qui il suggerimento è cerchi di avere un business gestibile da remoto non spendere inutilmente in uffici e spese perché diciamo questo anche questa è una cosa un po' che avveniva soprattutto a tempo fa negli imprenditori c'era questa corsa a far vedere chi è l'ufficio più grande chi è l'ufficio più bello ok io e Fabio siamo cresciuti del 140% anche quest'anno a oggi penso abbiamo fatto il fatturato del 2019 ma questo più 60% del fatturato rispetto all'anno scorso ok a metà anno tutto l'anno scorso molto bene questo non ci ha fatto perdere la testa noi ci tiriamo fuori sempre la stessa percentuale dell'azienda ma non abbiamo aperto uffici inutili se fosse utile per qualche motivo lo facciamo e non dico che gli uffici siano completamente inutili ma pensateci bene c'è chi spende soldi magari in uffici e poi non ha più i soldi per investire in marketing che è la cosa che vi porta soldi quindi anche l'ordine con cui fate gli investimenti è importante noi abbiamo preferito rimanere remoti e utilizzare i profitti per crescere in altri tipi di asset quindi in studio studiamo molto abbiamo investito poi al di fuori anche dell'azienda in azione abbiamo investito sull'azienda sul marketing sulle campagne online pensateci bene voglio dire e cercate di non accollarvi spese fisse l'ufficio è una spesa fissa perché devi pagarlo comunque l'affitto quindi magari sei meno flessibile nei momenti di crisi quindi cercate di limitare queste spese fisse noi siamo molto flessibili adesso mi è fatto venire in mente una chiacchierata con un amico la settimana scorsa non so se sta guardando la live lo saluto che in cui gli ho detto ok voleva iniziare a investire in pubblicità e gli ho detto boh inizia 5 euro al giorno che è pochissimo io consiglierei almeno 10 euro al giorno anche per una piccola attività anche per un libro professionista sono 300 euro al mese e mi dice non so mi sembra tanto perché ho appena cambiato l'ufficio devo pagare l'ufficio e questo quindi non investo in pubblicità perché devo pagare l'ufficio in realtà dovresti pensarla completamente contrario investo in pubblicità perché devo pagarmi l'ufficio ok siccome devo pagarmi l'ufficio inizio a investire in pubblicità così mi tornano i soldi per pagare l'ufficio cioè c'è ancora troppo questa vedere la pubblicità questo è il termine che forse va un po' a creare questi problemi di concezione del marketing vedere la pubblicità come un costo come un costo e non come un investimento si dice sempre questa cosa però in realtà sì no lo so lo so che è un investimento ma non è non è un costo però in realtà pensi che sia un costo e non un investimento cioè non capisci che effettivamente se esce 5 deve tornare 6 almeno oppure magari non torna subito però ti permette tra due anni di far tornare 6 in qualche modo cioè oppure ti permette di lavorare meno e guadagnare uguale può fare può avere diversi effetti positivi e di certo non è adesso sì no ma lo diciamo con cognizione di causa perché non è voi magari qualcuno pensa fate facile voi a parlare ma i soldi non sono i vostri state investendo i soldi dei clienti invece no perché stiamo investendo parecchi soldi nostri in ads in pubblicità online se lo facciamo noi molto più di aziende che sappiamo ok c'è un motivo e io apprezzo i risultati che arrivano anche se non mi arrivano vendite perché comunque il mio logo il mio brand la mia faccia è andata davanti a migliaia di persone e per me questo è importante un asset caresta non investiamo solo online non investiamo solo online investiamo anche offline e lo facciamo con condizioni di causa e con una certa percentuale stabilita del nostro fatturato quindi non abbiamo almeno 5% del fatturato dell'azienda dovrebbe essere quindi si presume che abbiate degli utili che non sia fatturato uguale alle spese comunque almeno se dovete farvi un'idea almeno 5% del fatturato dovreste investirlo in marketing in qualche modo poi se non lo volete fare se non ve la sentite niente non fa nulla non fa nulla un altro punto importante è questo ma che approfondiremo in un'altra diretta magari è proprio questo spesso magari ci chiedono ho investito mille questo mese ma non mi è tornato cavolo quel mille ti ha portato a farti conoscere da 10.000 persone che adesso ti conoscono prima non ti conoscevano di conseguenza magari alcuni di questi hanno iniziato a seguirti alcuni ti ti continueranno a seguire e acquisteranno dopo oppure hai capito quello che non funzionava magari magari ti è servito anche per capire quello che non funzionava tu avevi un messaggio e non sei riuscito e hai capito grazie ai mille euro investite hai capito che il messaggio non funzionava e quindi ti è servito solamente ti è bastato un mese per capirlo altrimenti potevi andare avanti senza investire per raggiungere quelle stesse persone che erano raggiunti in un mese grazie a mille euro di investimento dovevi aspettare tre anni e di conseguenza perdevi tre anni di business per poi capire che il tuo messaggio non funzionava anche questo è valore anche questo è ritorno sull'investimento bisogna però capirlo ultimo punto del perché lavorare in remoto è che puoi ingaggiare effettivamente professionisti da qualsiasi parte del mondo quindi anche questo è un bel vantaggio magari adesso non dico di ingaggiarli veramente da qualsiasi parte del mondo ma almeno da tutta Italia perché il talento che fa per te non è facile che sia nella tua via ma neanche nella tua città neanche nella tua provincia quindi è probabile che la persona giusta per te perché poi magari non è detto che sia il più bravo ma la persona che fa al caso tuo il tuo progetto magari si trova in sud Italia e tu sei in nord Italia con il lavoro remoto non c'è nessun problema noi io e Fabio non ci vediamo mai ci vediamo due volte all'anno adesso vado giù a trovarlo e le persone mi chiedono ma come fai a lavorare insieme ma noi ci sentiamo ogni giorno come fossimo di fianco in ufficio non c'è nessun problema a volte lasciamo attiva la videochiamata così e continuiamo a lavorare ogni tanto diciamo qualcosa può succedere è una cosa che si fa quando iniziate a lavorare in remoto vi sembrerà la cosa più naturale del mondo è solo che dovete iniziare e avere gli giusti strumenti le giuste metodologie la mentalità giusta perché il vostro team deve avere una mentalità una cultura di team e per partire ma poi i vantaggi sono tanti dal risparmio in termini di tempo per andare al lavoro quindi non ci sono più discorso di stare in auto un'ora magari risparmio anche l'inquinamento possibilità di assumere persone in diversi luoghi del mondo il vostro team è più felice perché lavora da casa o da dove vuole non è detto che lavori da casa potete comunque allestire un ufficio bello dove le persone vanno comunque a lavorare se lo vogliono per stare più tranquille rispetto a casa insomma le possibilità sono tante qui torna utile il mio corso che abbiamo detto all'inizio remote project management che abbiamo già messo il link credo nei commenti giusto Fabio io facevo anche consulenze su questa cosa qua cioè sul come creare facevo consulenze su come creare e gestire il team a remoto o come organizzare l'attività online in remoto non le faccio più non ho più tempo quindi non chiedetemele però c'è il corso in caso vogliate dove ho messo tutti i contenuti quindi su questo sul lavoro remoto riferitevi a me non a Fabio e basta così per adesso questo questo c'è passiamo all'ultimo punto di domani quindi google affronterà domani venerdì ah sì questo è il punto più importante cioè il più bello per me è mantenere il benessere di te stesso e del tuo team e del tuo staff facci sentire la pronuncia in inglese ma questo è difficile eh eh lo so lo so maintain well being for yourself and your staff oh perfetto quasi your staff quasi come le tue robe potrebbero anche essere le tue staff ma comunque è il punto l'unico che ho trovato che non conoscevo che sono andato a vedermi il webinar che in verità lo potete già vedere il webinar anche prima di venerdì parlano c'è una ragazza che parla per un'ora un'ora dovrebbe essere e praticamente fa un audit su quella che vi fa fare un audit quindi una una ricerca un test su quella che è la vostra situazione energetica attuale e come poterla migliorare su diversi aspetti l'energia fisica l'energia emotiva l'energia mentale l'energia spirituale è molto interessante ad andare a vedere questa cosa qua non riguarda il marketing non riguarda il lavoro in remoto ma riguarda il benessere psicofisico delle persone guarda qui ho vediamo però sono messi in ordine sbagliato ve le do in ordine giusto ok quello è di sabato non c'ho il test ok praticamente dopo l'audit vi da questi suggerimenti qua quindi magari vi li faccio vedere così in slide per migliorare l'energia quindi dopo il test avrete una misura della vostra energia capirete che siete disastrati messi malissimo quindi come migliorare fisicamente dai priorità al sonno mangia le cose giuste ok abbastanza basiliare questo fai molto esercizio anche questo abbastanza basiliare ma bisogna farlo e prendi un break ogni 90 120 minuti poi google dà dei suggerimenti dal punto di vista emozionale quindi fai apprezzamento agli altri ok parla giornalmente con qualcuno io faccio tutti i giorni con Fabio io faccio col muro sì esatto vabbè mental focus crea una lista di priorità fai prima le cose le cose più importanti al mattino poi vedremo una cosa molto interessante che hanno suggerito sul calendario e fai meditazione anche questo l'ho inserito ultimamente nel mio calendario la mattina fai meditazione e dal punto di vista spirituale fai cose che sono importanti per te quindi anche il lavoro è bello che sia una cosa che ti piace fare quella è la miglior situazione ma comunque a parte il lavoro se magari hai degli hobby falli chiarifica bene le priorità quindi anche al di fuori del lavoro magari ci sono delle priorità che arrivano prima del lavoro e dedica il tempo alle cose importanti per te nel mio caso potrebbe essere appunto la famiglia sapete che ho due bambine che mi portano via se costano anche parecchio tempo quindi la cosa più bella che ho trovato è stata questa divisione del calendario questi sono i giorni della settimana e dentro i giorni della settimana ci sono i vari task da completare la cosa che suggerisce google è di dedicare la prima prima fascia ad orario che è proprio dalle 6 alle 8 di mattina a te stesso quindi due ore ad attività per te stesso io qui non leggo ma io alla mattina dedico tempo alla meditazione all'esercizio fisico e per esempio al trading cioè gli investimenti in azioni che ho deciso di fare mi metto lì la mattina a fare il trading la seconda parte della mattina quindi quasi tutta la mattinata è il make time quindi quando andate a fare le attività di produzione attività di produzione quindi andate a produrre per il vostro lavoro e effettivamente sono le ore più produttive della giornata e dedicare poi la terza parte della giornata quindi fine mattinata inizia pomeriggio tutto il pomeriggio al meet time quindi quando vi interfacciate con gli altri quando vi interfacciate con gli altri avete call riunioni e quindi cercare di non essere interrotti durante il make time da questi meet ma spostarli a dopo quindi ho trovato bella questa cosa non la conoscevo e quello che diciamo eravamo arrivati a fare anche noi dall'esperienza vedendo quando sei più produttivo poi cambia da persona a persona però tendenzialmente la mattina con la mente fresca riesci a fare di più quindi prima parte dedicando del tempo a te dando come priorità almeno quello è fatto capito qualsiasi cosa succede durante il giorno la roba importante è fatta dopo fare e dopo quindi dopo la parte più produttiva e dopo incontrare parlare fare i call eccetera io tendenzialmente a me piace fare tipo palestra esercizi alla sera cioè dalle sei in poi quando ho fatto i compiti e quindi mi sento di aver già fatto il dovere e mi dedico più al piacere anche se alcune cose le faccio invece la mattina quindi prima di iniziare però ad esempio l'esercizio fisico lo faccio alla sera sai che mi hai sollevato una questione ma anche voi avete questo senso del dovere non lo so lo chiedo nei commenti se qualcuno vuole commentare se ha questo senso magari soprattutto se sei un libro professionista del dovere ogni giorno cioè se non hai fatto delle attività utili non puoi finire la giornata non vi è mai capitato di avere delle giornate in cui vedete che perdete tempo siete interrotti call siete frustrate arrivate alla fine della giornata veramente di cattivo umore altri giorni in cui riuscite a fare delle attività importanti per i vostri clienti magari gli stai bene veramente la sera stai benissimo è una strana cosa questa qua non mi succedeva quando ero dipendente però da quando sono in conditore è una roba allucinante cioè come se avessi un capo invisibile che che mi fa fare le cose sì 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 è proprio così è proprio così non so se il senso di responsabilità è fondamentale per un professionista altrimenti appunto va a fare il dipendente e non ha c'è bisogno a convivere con questo senso di responsabilità quindi è importante che tu lo senta è un buon segno a volte anche troppo bisogna sapere anche staccare eh sì comunque direi che io lo rispetto abbastanza questa tabella l'unica cosa che per esempio altre attività per me come lo studio lo faccio dopo mangiato cioè adesso questo orario qua perché sono basso di energia non ce la faccio a partire subito dopo pranzo con il lavoro allora dedico un'oretta a studiare ogni giorno Mauro dice ti cambia la vita iniziare la mattina presto con una camminata nella natura se ti svegli un po' strano dopo la camminata sei molto meglio sì no è vero è vero per quello io faccio esercizio la mattina è vero cioè a me cambia la giornata fare esercizio la mattina o no infatti quando per esempio come oggi una live ho bisogno di una giornata energetica devo assolutamente fare ginnastica fare movimento tutte le mattine vado a correre di solito respiro aria fresca quello proprio mi dà tutte le giornate diverse è una cosa che non ce la farei se faccio esercizio la sera ottimo ciao Davide grande sta guardando chi ci sta seguendo ok chiudiamo chiudiamo con il sabato giornata di festeggiamento quindi niente qua Google ci dà ci link a un po' di video di business vincenti business profittevoli che sono stati premiati e che possono essere di ispirazione quindi se voi andate adesso magari vediamo anche il link giusto Fabio in questa cosa di Google vedrete tutti i vari video noi non andiamo a riportarvi quei video lì però magari raccontiamo qualche storiella di successo o insuccesso dei nostri clienti sì qualcosa abbiamo già raccontato durante durante la diretta se vogliamo riprendere ancora il discorso del momento che stiamo attraversando quindi anche delle opportunità che c'erano e che ci sono ci saranno online in questo momento un po' così che c'è stato di crisi abbiamo visto come appunto abbiamo accennato prima tra i nostri clienti c'è una una fioreria di Milano una fioreria di Milano che già prima del lockdown vendeva online cioè consegnava fiori a domicilio e durante il lockdown capitava spesso che il titolare ci chiesse ragazzi spegnete le campagne perché non ce la facciamo più stare dietro agli ordini e quindi questo cosa dimostra dimostra che muoversi prima può rappresentare un vantaggio competitivo molto molto importante quindi chi continuava a negare la la forza dell'online poi si è ricreduto sulla propria pelle durante questo durante questa situazione Mauro ci pede se resta registrata la diretta sì potete tornare in ufficio resta registrata tranquilli lasciamo in pagina e quindi questo è un esempio è un esempio positivo abbiamo detto anche che chi invece c'è anche chi nel settore turismo noi avevamo visto che i costi erano molto molto bassi durante i mesi di marzo aprile e quello secondo noi era il momento ideale per anche chi è nel settore turismo per fare lead generation quindi magari non si vendeva direttamente la vacanza perché in quel momento le persone stavano disdendo disdicendo disdendo come si dice le avrondano disdetta erano tanto disdetta alle loro prenotazioni ma era il momento giusto per farsi conoscere alla metà del prezzo rispetto ad ora per quindi magari acquisire il contatto dell'utente in cambio di di qualsiasi tipo di offerta ad esempio cito un altro un altro ragazzo molto molto bravo Francesco che sempre nel settore turismo durante il lockdown cosa ha fatto ha fatto si è fatto conoscere non si è fatto prendere dal panico si è rimboccato le maniche quindi questa è la differenza tra i veri imprenditori e gli imprenditori diciamo così improvvisati l'imprenditore improvvisato appena c'è un problema dice no fermiamo tutto no 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 va tutto male va tutto male va tutto male invece gli imprenditori illuminati si rimboccono le maniche e dicono ok visto che c'è questa situazione cosa posso fare quindi reagiscono alle situazioni e Francesco ha fatto una serie di video guide quindi dei tour virtuali delle città della Puglia e questo e quindi si è fatto conoscere dagli utenti ha aumentato la base di follower o comunque ha aumentato le persone che hanno iniziato a seguirlo perché offriva gratuitamente poi l'avevo suggerito non so se l'abbè fatto di magari creare anche dei video diciamo riservati solo a chi lascia il contatto quindi che entra in una sorta di piattaforma in cui ha dei tour virtuali quindi acquisiva anche il contatto di queste persone e ora oggi luglio che diciamo il turismo ha riaperto in Italia e anche all'estero può avere una base molto più ampia di persone con le quali comunicare e quindi ha sfruttato questo periodo marzo-aprile in cui si avevano dei costi molto molto vantaggiosi e l'ha sfruttato per farsi conoscere e quindi adesso deve solo finalizzare la vendita perché adesso le persone si cercano di prenotare come si chiama Francesco ti ha ascoltato Francesco Maggio bravo grande Francesco ti segui perché vedo i post Facebook che fa molto bravo non si è mai dato per vinto nonostante appunto il settore è stato il più colpito si è sempre impegnato al massimo e mi auguro veramente che possa avere tutte le soddisfazioni che merita se lo merita sono convinto che arriveranno le soddisfazioni perché proprio l'imprenditore che ci mette il cuore nell'attività lo fa passare cioè passa questa cosa ai clienti e vai da lui anche costasse anche di più ci vai perché capisci che ti dà qualcosa in più noi Francesco l'abbiamo conosciuto dal vivo al Salone del Turismo a Milano Salone del Turismo al BIT di Milano il convegno sul turismo internazionale è stato veramente forte poi in Puglia adesso sembrava fosse tutto chiuso ma guardate com'è riaperto e ripartola grande io me ne vado in ferie non lo so voi ma tra l'altro sono stato nella spiaggia qui vicino a noi dopo tutto quello che hai lavorato negli ultimi mesi direi che te lo sei meritata sì cioè vabbè lasciamo stare ma comunque noi siamo sempre attivi cioè vado in ferie ma in verità si lavora sempre 3-4 ore al giorno alla sera quando i bambini dormono ad agosto non fanno mai interrotto me ne hai mai interrotto non esiste l'interruzione non esiste non deve esistere l'interruzione cos'è questa cosa che si chiude tutti ad agosto no siamo un team ma al limite ci diamo il turno detto questo stavo dicendo qui c'è il litorale la spiaggia di Venezia diciamo per far capire il resto d'Italia perché magari non conoscono i paesini tutti però le nostre spiagge qui in Veneto sono molto affollate devo dire magari poi è un turismo di mordi e fugi che fanno 2-3 giorni come ho fatto io pochi che magari fanno un mese ma in verità io ho chiesto e loro mi hanno detto negli stabilimenti che c'è più problema del meteo che del coronavirus quindi fate conto voi è stato più un problema che ha piovuto che in Italia piove d'estate Fabio tu sei lì a Valencia io sono in Valencia e Malta e non piove mai e qua piove e lì il problema non il virus cioè ecco vabbè no per dire e quindi prezzi sono alti come sempre e quindi non c'è tanto da c'è mercato c'è poco da star lì c'è il mercato almeno almeno io ci sono andato quindi un hotel per una persona lavorata era veramente pieno perché io ci sono stato un mese l'anno scorso e ho visto la situazione quest'anno e il numero di persone era di più poi non lo so ripeto magari erano lì e poi tornavano a casa la sera però in spiaggia eravamo di più non c'erano neanche i pedalò per andare al mare erano tutti fuori poi io mi auguro che vada bene a tutti e che si lavori bene tra l'altro devo tornare a Sottomarina saluto l'Hotel Paris grande va bene io Fabio direi abbiamo detto tutto siamo arrivati alla fine abbiamo fatto degli esempi abbiamo dato dei suggerimenti concreti abbiamo messo dei link sotto riassumiamo i sette punti poi sono sei comunque dati fate attenzione ai dati quindi Google Analytics Pixel Facebook usate Google Trends entrate online dalla porta gratuita fatevi la scheda Google My Business iniziate a essere un po' nei social curate le recensioni iniziate a spingere con delle campagne quindi sia Google che Facebook potete iniziare anche a fare qualcosina voi con delle campagne smart in Google con delle sponsorizzazioni in Facebook poi cosa c'era? c'era il punto del lavoro remoto ok cercate di portare l'azienda più digitale possibile lavorare in remoto ridurre i costi fissi quindi cercate di organizzare per per questo per lavorare in remoto potete accedere anche a risorse in tutto il mondo comunque in tutta Italia quindi non per forza consulenti collaboratori strettamente nel raggio di 20 km intorno alla vostra realtà allargate anche gli orizzonti sotto questo profilo e organizzatevi per poter mantenere il vostro benessere psicofisico quindi anche organizzate le vostre attività il vostro calendario per mantenere un corretto equilibrio vita e lavoro quindi anche questa è una cosa fondamentale per restare produttivi poi alla fine e per godersi ok bene grazie quindi a quelli che ci hanno seguito grazie a tutti grazie anche a quelli che non ci hanno seguito comunque vedrete rimarrere in pagina e poi caricare in monte YouTube questa live ok ripeto noi ci proviamo a essere costanti quindi se per voi va bene il giovedì alle 13 possiamo fare giovedì alle 13 e dateci il suggerimento vediamo se troviamo altre fasce orarie in cui andate meglio spostiamo fateci dei suggerimenti per il nome del format che stiamo cercando inizieremo un sondaggio va bene ciao a tutti ciao ciao buona giornata ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti